Presidente, questo è uno dei tanti emendamenti che avevamo fatto anche durante la prima discussione con la Camera, il primo passaggio con la Camera della legge di stabilità. Noi chiediamo di sopprimere la compensazione per cui il finanziamento dato a poste per l'utilizzo della carta acquisti che veniva utilizzata poi anche in un tentativo che era stato fatto e poi stabilizzato, che era quello dell'utilizzo della carta acquisti anche per gli stranieri. Questo è uno dei tanti esempi di una legge di stabilità fatta di innumerevoli fondi e finanziamenti dati a cittadini stranieri in vari e svariati casi. Noi chiediamo la soppressione perché crediamo che in un momento come questo, in un momento di una situazione di crisi economica e di disagio sociale elevato, sia un errore dare priorità a cittadini e stranieri rispetto ai tanti pensionati, ai tanti cittadini italiani che sono in gravissima difficoltà.